San Tommaso Solofra, il derby per la risalita, un match che diviene di vitale importanza per Bianco Verdi e Giallo Blu. Una sfida molto tattica con due santoni della panchina come Ciaramella e Messina pronti ad annullare le mosse dell'avversario. Una gara che può rappresentare il vero spartiacque per le due formazioni. I padroni di casa sono reduci dal campo o sul campo del Nola, gli ospiti dal pareggio contro il Rinascita Vico. Una partita fondamentale per entrambe. Sette punti per i Grifoni, nove per i Conciari, nove i gol realizzati dagli Avellinesi e sette quelli di Del Grande e compagni. Problemi in difesa per entrambe dove la formazione cara a padron Cucciniella ha subito 15 reti. Seconda peggior retroguardia alle spalle del Sant'Agnello con 16, mentre i Giallo Blu ne hanno subiti 10. Il San Tommaso però nell'ultimo periodo ha ritrovato Balzano. L'attaccante dopo un momento di appannamento è riuscito a mettere a segno 5 reti. Due invece i gol messi a segno da Del Grande, uomo di maggiore esperienza a disposizione del tecnico siciliano. Una partita particolare per tre solo frani, Avallone e Liguori che hanno fatto parte del primo San Tommaso di Mario Silvestro e Nico Rapolo, attaccante anche lui con trascorsi tra le fila dei Grifoni. I presupposti per un grande match ci sono tutti. Non ci resta che aspettare domenica per capire quali saranno le risposte che arriveranno dal campo.